Musica Amiche e amici di Rossini TV, siamo alla terza puntata di Verso il Festival. Siamo proprio dentro, come vedete, al Teatro Rossini, non è vero. Siamo in studio, siamo in studio con Cristian Della Chiara. Ciao Cristian. Ciao Paolo e ciao a tutti gli spettatori di Rossini TV. Però l'ambientazione Teatro Rossini è ad hoc, lo diciamo subito, così i più distratti possono avere la conferma, perché magari l'hanno sentito, ma sarà vero, ma è pronto, è fatto. Si può fare. Il Festival è a casa. Oh, è tornato a casa, dove è nato nel 1948. 1948. Pensa a te. Prima di noi. Esatto, è una delle poche cose di cui parlo che è cominciata prima che io nascessi, e questa è una cosa che mi fa piacere, perché di solito, bene o male, anche le cose più lunghe, però io non dico che me le ricordo, ma c'era, per cui mannaggia. Allora, il Festival è più anziano di noi, è più anziano di me soprattutto, ma gode di buonissima salute. Gode di buonissima salute, lo confermano le tante richieste di partecipazione che riceviamo ogni anno al Festival. Quest'anno 117 richieste di partecipazione, fra le quali ne abbiamo selezionate otto. Ne abbiamo perché il mio lavoro di direttore artistico è stato accompagnato dal preziosissimo e generosissimo contributo di Giuseppe Esposto, un grande attore conosciutissimo in città e non solo, che da qualche anno mi affianca in questo bellissimo viaggio, faticoso, ma bellissimo viaggio, attraverso appunto le varie candidature. Quest'anno 117, ce lo siamo visti, rivisti, rivisti, rivisti e alla fine abbiamo scelto otto, con la speranza di aver scelto i più belli. Di sicuro ne abbiamo scelto i di molto belli e poi sperando che siano stati anche i migliori. Come dico sempre, noi guardiamo dei video, quindi in realtà vediamo qualche cosa di diverso, quindi è anche nostra la curiosità di vedere in teatro, in scena, quello che noi abbiamo selezionato da una prospettiva diversa. Però ormai siamo arrivati il da due tratto, come si dice, quindi siamo emozionati di vedere il compimento del nostro lavoro. E poi ormai siete espertissimi, avete l'occhio allenato e non cadete nel tranello, come quello di cui mi parlavi di qualche anno fa, della scena che poi era dall'altra parte, da tutto il particolare. Perché dovete sapere che quando vengono realizzati questi video, ogni tanto qualche furbatina ce la mettono dentro, allora magari ti fanno vedere quel primo piano astuto, quella cosa particolare, che poi quando siamo invece... E si perde tutto. E perde completamente, no? Esatto. Ma voi ormai siete astutissimi, avete capito quali sono i trucchetti. A noi non la si fa. Esatto, esatto, esatto. Questo lavoro straordinario, vorrei vedervi che siete lì, che guardate, che questa sì, questa no. Insomma, non è uno scherzo, è un lavoro... No, devo dire, è molto, molto bello. È impegnativo, è inutile nascondere, però è molto bello. Lo considero un privilegio poter dedicare del tempo a una cosa bella, come quella di vedere il teatro, e vedere un teatro di qualità, perché l'abbiamo detto, l'hai ricordato tu più volte, i 117 spettacoli che abbiamo visto in realtà sono già frutto di una selezione, perché sono migliaia, le compagnie teatrali italiane, che guardano al Festival di Pesaro come a un mito. A un punto d'arrivo. A un punto d'arrivo, perché è uno dei festival più longevi, uno dei festival più rappresentativi del movimento. Quindi decidono di partecipare al festival solo quando si sentono forti di avere uno spettacolo di qualità. Quindi c'è già stata una prima autoselezione, qui seguo una seconda selezione, che però di solito parte già da un gruppo di spettacoli di livello alto. Quindi è piacevolissimo quella esperienza e con Giuseppe ci divertiamo a cercare di guardare, di intuire, come dici tu, anche di capire quello che dal video non è direttamente percepibile. Quindi è una bella avventura che in questi giorni, ecco, adesso vediamo un po' il risultato, il pubblico si dirà che abbiamo fatto una scelta in linea con le loro aspettative. Prima hai usato la parola viaggio, mi hai fatto tornare in mente questa cosa che avevo sentito, che avevo letto, ma che poi è ovvia, no? Cioè il discorso dei contenuti digitali è recente, prima ancora c'era il DVD, prima ancora c'era la videocassetta, ma prima ancora si andava, prima ancora si andava a vedere. Prima ancora c'era una commissione, io lo stesso non ero, non facevo parte del festival, ma ho letto le storie del festival, c'erano i cosiddetti Girandulon, che era questa compagnia, questa commissione di selezione, che appunto tu meglio di me puoi spiegare il significato della parola Girandulon, cioè giravano per l'Italia andare sul posto a vedere gli spettacoli delle compagnie. Ovviamente i numeri immagino che fossero minori, non credo che andassero a vedere 117 spettacoli in tutta Italia, quindi la tecnologia in questo caso ha consentito di ampliare moltissimo la platea di spettacoli che possiamo visionare, inevitabilmente quindi di alzare il livello della scelta finale. Ora prima c'erano le videocassette, i DVD, ora ci sono le tracce video, quindi anche il livello della qualità del filmato è sempre maggiore, e quindi il lavoro è anche più piacevole per quello, perché a volte vedere dei video dove si sente male, si vede peggio, rende un po' più faticoso, quindi insomma è più stanziale ora il lavoro, ma anche più corposo perché sono tanti di più gli spettacoli da vedere. Ogni tanto però la voglia di andare da qualche parte a vederli potrebbe anche tornare, potrebbe non essere proprio brutto brutto brutto. Devo dire che io per fortuna, per la mia attività, sono abbastanza girandulone, quindi mi capita di girare ed è sempre bello insomma vedere gli spettacoli dal vivo, quindi così nel modo per cui vengono creati. Allora, nelle puntate precedenti abbiamo parlato di tutto quello che sta intorno al festival, di tutto quello che fa da integrazione importante, da arricchimento. Ci abbiamo girato intorno, abbiamo scantonato, è ora. Cristian, è ora di parlare del concorso. Il concorso 8 spettacoli che si contenderanno i vari premi, quello migliore spettacolo, migliore scene, costumi, regia, interpreti e anche, lo ricordo, miglior trailer, perché poi Rossini TV, media partner del festival, è anche il soggetto con cui abbiamo inventato questo concorso dedicato ai trailer, quindi è ancora possibile votare sui social di Rossini TV e dell'associazione Amici della Prosa il trailer che più piace e quindi partecipare alla giuria che determinerà il vincitore anche di questa categoria. Ma poi ci sono gli spettacoli da vedere in teatro. Se mi permetti faccio una breve carrellata, così li ricordiamo tutti, è un concorso quindi è bene che diamo a tutti lo stesso spazio. Iniziamo giovedì 19 ottobre, gli spettacoli sono tutti alle ore 21, tutti al Teatro Rossini, con lo spettacolo La Calandria di Bernardo Dovizzi da Bibiena, della compagnia Al Castello di Foligno. Si tratta di un ritorno, di una compagnia che ha vinto tante volte al festival, anche in anni recenti, una compagnia che è davvero difficile considerare amatoriale per la qualità del lavoro che è in grado sempre di mettere in scena, anche per la qualità del lavoro attorno alla messa in scena, quindi per quello che riguarda anche la cura dei costumi, le scenografie. Quindi diciamo partiamo forte, ma tutti gli spettacoli sono forti. Devo essere ecco eco con tutti quanti. Proseguiamo con un titolo particolare, particolare perché l'abbiamo visto al festival non tantissimo tempo fa. Si tratta di Copenhagen, era stato presentato al festival sei o sette anni fa fuori concorso, ma qui lo vediamo in una nuova versione, un'altra compagnia, la compagnia note di teatro di Gualdo Tadino, quindi restiamo in zona con Foligno. Il testo di Michael Freyne, Copenhagen, un testo meraviglioso, l'abbiamo visto tra l'altro anche in stagione di prosa, non tanti anni fa, con Massimo Populizio, Umberto Orsini, Giuliano Alloiodi, se qua al teatro Orsini, di nuovo al teatro Orsini in questa compagnia. La vicenda, brevissimamente, racconta di questo incontro reale, ma poi anche, diciamo, riportato in maniera, con un grande contributo della fantasia dell'autore, fra Heisenberg e Niels Bohr, il terzo personaggio e la moglie di Niels Bohr, appunto a Copenhagen, nell'immediata vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il tema è la fisica nucleare, ma poi anche tutto quello che ne consegue, la ricerca nucleare, quindi la bomba atomica, insomma un testo importante, dove verrà messa in scena la fisica, la matematica, ma il sottotesto in realtà è di grande intensità. Poi, dopo due serate, dopo una serata un po' più, diciamo, integnativa per quanto riguarda il tema e la riflessione, arriviamo con una commedia, Fanny Miney, di Ray Cooney, un grande drammaturgo, un grande drammaturgo che ritorna a Pesaro dopo qualche tempo, ovviamente il suo lavoro, lui non sarà qua, la compagnia è Ramaiolo in scena ad Imperia, è una serata tutta dedicata finalmente al divertimento, anche un po' più leggero, senza troppo impegno. Impegno che ritorna invece la sera successiva, quella di domenica, lo spettacolo è ancora un testo che abbiamo già visto a Pesaro, vincere a Pesaro 12-13 anni fa, il testo è Nel nome del padre di Luigi Lunari, ci fa piacere riospitare un lavoro di Luigi Lunari, che è uno dei drammaturghi italiani più rappresentati all'estero, scomparso pochi anni fa, grande amico del festival, era stato qua anche negli ultimi anni della sua vita, forse pochi mesi prima di morire, era ospite al nostro festival, quindi un grande amico che ci piace ricordare, quindi mettendo in scena questo spettacolo, in cui c'è ancora, si parla di un incontro, un incontro qui di fantasia fra Rosemary Kennedy e Pietro, non vorrei sbagliare il nome, Togliatti, figlio di Togliatti, che è appunto in questo non luogo, in questo non tempo incontro nelle loro vicende umane, molto drammatico, lo spettacolo è estremamente intenso, sono due gli attori in scena, con una interpretazione estremamente coinvolgente, generosa e intensa, per uno spettacolo appunto di grande emotività, di grande emozione, e così si conclude il primo weekend di spettacoli in concorso, e poi il secondo weekend, la già ricordata forma compatta, un weekend che inizia il mercoledì, un weekend di weekend lungo, lunghissimo, già quello di prima cominciava il giovedì, magari potersi far mettere tutti i weekend di spettacoli. Quattro spettacoli, giovedì domenica, e poi la seconda settimana, mercoledì sabato, perché poi la domenica è dedicata alle premiazioni. Quindi iniziamo con mercoledì, ancora uno spettacolo particolare, perché non mi risulta, almeno io non ero a conoscenza, di altre messe in scena teatrali, di La Strada, tratto ovviamente dal film di Federico Fellini, La Compagnia e Giardini dell'Arte di Firenze, il giovedì ancora all'insegna del grande divertimento, prestazione casionale, ancora una compagnia di Firenze, questo spettacolo che prende le mosse da un'idea originale, la protagonista, una giovane donna, decide di voler affrontare la maternità, ma in una maniera particolare, la vuole affrontare da sola, quindi chiede a tre suoi più cari amici di aiutarla diciamo così nel prestarsi occasionalmente per far sì che poi lei possa portare avanti in autonomia la gravidanza. Il tema in realtà può stimolare tante riflessioni anche molto molto importanti, ma è affrontato in una forma estremamente leggera, quindi sarà una serata in cui si potrà ridere tanto, ma poi a casa eventualmente portarsi dietro qualche riflessione. Il venerdì 27, è uno spettacolo della Compagnia Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese, lo spettacolo è Nove Giorni di Massimiliano Giacometti, Massimiliano Giacometti ricordiamo tra l'altro l'anno scorso presidente di giuria, quest'anno ritorna nel suo ruolo canonico di concorrente, torna al festival dopo essere stato tanti anni al festival, anche vinto diverse volte, con questo spettacolo, ancora uno spettacolo molto intenso, racconta una vicenda reale, biografica, tra l'altro autobiografica, perché uno dei due attori in scena racconta una vicenda della sua famiglia in cui questo giovane che ha tutt'altro che voglia di andare in guerra, invece deve andare in guerra partecipando alla campagna di Russia ed è un racconto estremamente emozionante, coinvolgente e che purtroppo, devo dire, ha anche dei richiami nei periodi che stiamo vivendo in questo periodo in cui purtroppo il tema della guerra è tornato drammaticamente vicino e sentito anche alle nostre latitudini. Concludiamo gli spettacoli in concorso sabato sera con Così è se vi pare un classico di Luigi Pirandello e la compagnia Avalon di Battipaglia che torna a Pesaro dopo aver tanto ben figurato qualche anno fa con uno spettacolo, un testo classicissimo, anche quest'anno il cartellone propone un mix di testi più leggeri, più impegnati, i testi contemporanei, i classici, insomma abbiamo cercato di, o meglio, la selezione ci ha permesso di mettere insieme un cartellone che offra, che possa offrire diversi spunti di lettura. Concludiamo con uno spettacolo appunto di tradizione se vogliamo e poi dopo una notte passata in bianco a riunire la giuria per fare tutte le sue valutazioni, la domenica mattina, attenzione, alle 11. Era sempre alle 10, quindi arrivamo, ci siamo presi questa piccola licenza di iniziare la cerimonia di premiazione e un'ora dopo, quindi, poi se è tradizionale, 10 del mattino alle 11, quindi saremo, lo dico già anche a Paolo, particolarmente puntuali dovremmo essere, quindi tutte le interviste, i racconti li faremo prima e alle 11 partirà la diretta Facebook con la quale annunceremo i premi di questa edizione. È ovvio, per i tempi che ci diamo, che i premi li annunciamo proprio lì in diretta. Nessuno sa, fino a quel momento, qual è l'esito del lavoro, anche perché non ci sarebbe tempo di comunicarlo. Io ci provo sempre, tra l'altro, dovete sapere perché, perché dico, dai, tanto Cristian, questo va in onda dopo, non ti dico niente, non me lo dicono neanche a me, neanche così in via confidenziale. Ma c'è un motivo, c'è un motivo, siccome noi invitiamo tutte le compagnie a tornare a Pesaro, quindi sono in sala molti dei premiati. Esatto, e ci piace che lo scoprono in quel momento e poi tu lo puoi confermare, è sempre molto emozionante la cerimonia di premiazione perché proprio si sente la partecipazione, il calore, anche l'entusiasmo e anche quel pizzico di delusione in qualcun altro. Però insomma, è una cerimonia sempre molto sentita che sarà trasmessa in diretta, ripresa da Rossini TV, chi vorrà potrà seguirla anche i giorni successivi. Insomma, concluderemo con una bella festa, domenica mattina, Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Tra l'altro, è proprio sempre un bel momento, voglio dire, per cui adesso la Sala della Repubblica non è gigantesca, però comunque se qualcuno vuol venire a sbirciare, soprattutto quelli che hanno fatto l'abbonamento, hanno visto tutte le commedie e tutto e sono ansiosi, al di là di Facebook, se ho capito, potete guardare la diretta, però se venite, proprio si respira l'atmosfera bella, si vedono le facce stanche ma felici di Christian e dei componenti della giuria. Si capisce che c'è della tensione, ma della tensione gioiosa. La tensione gioiosa perché comunque, tra l'altro, anche dopo le assegnazioni dei vari premi, comunque c'è della soddisfazione anche in chi inevitabilmente non ha vinto. Insomma, io, per quello che posso dire di mio, della percezione che ho ogni volta che vengo a fare le interviste per Rossini TV, ma che vengo anche come componente, insomma, che vengo lì e sono lì, devo dire che è proprio un bel momento di spettacolo. Anche quello è un momento di spettacolo. E' fatto bene ricordarlo che è un evento pubblico perché poi sempre anche il pubblico partecipa e quindi l'appuntamento del salario pubblico certamente per le compagnie, certamente per tutti quelli che hanno collaborato al festival, ma chi ha collaborato un ruolo principale è il pubblico. Quindi il pubblico è invitato a presenziare a questa cerimonia. Tanto c'è il premio del pubblico, no? C'è anche il premio del pubblico, giustissimo. Quindi ogni sera chi viene a teatro può attraverso la scheda voto indicare la preferenza dello spettacolo e poi implicitamente diventa giurato del festival. Uno dei premi tra l'altro più ambiti perché quello dei giovani e quello del pubblico sono dei premi che hanno un significato particolare perché piacere al pubblico che è diciamo l'obiettivo primo per cui si fa teatro e piacere ai giovani che dà una garanzia così di futuro al proprio lavoro è inevitabilmente uno dei riconoscimenti più importanti. Ti faccio una domanda vera, non che le altre siano false ma nelle altre bene o male erano quasi dei lanci di qualcosa che già so, queste invece non le so. Avete comunque mantenuto o non l'avete mai avuta la divisione tra il protagonista maschile e il protagonista femminile sai che c'è questa polemica e qualche premio vuoi toglierlo? non c'è più il miglior attore o la miglior attrice ma c'è il miglior interprete. Quindi abbiamo dall'anno scorso unificato quindi valorizziamo l'interpretazione nelle varie categorie quindi interprete principali interprete non principale il caratterista però non c'è più la distinzione di genere. È stata una scelta appunto che segue questo percorso verso l'annullamento delle separazioni di genere oppure è così per cambiare un po' ogni tanto? No, non direi per cambiare to cure diciamo che è stato un modo di portare il nostro contributo a determinate sensibilità devo dirti la verità io non sono convinto che non aver fatto la scelta avrebbe avuto un significato diverso o di non accoglimento di certe sensibilità però averlo fatto sicuramente significa che il Festival GAD si è posto il tema e ha fatto una scelta che credo che sia bella tutto sommato perché noi andiamo a vedere persone che rappresentano un personaggio non trovo così necessario fare una distinzione fra se il personaggio è maschilo o femminile della come posso dire della competizione della voglia di far meglio non essere rinchiusi nel recinto del genere è comunque sempre stimolante e positivo assolutamente assolutamente anche perché non stiamo parlando della prestazione del sollevamento peggio bravissimo stavo per dire così come penso che ci sono degli ambiti in cui sia sacrosanto considerare la distinzione perché poi ci sono delle caratteristiche che impongono delle valutazioni diverse nel caso del teatro forse questa necessità non c'è e abbiamo ritenuto che fosse da abbandonare bene bene bello bello e allora cominciamo quasi a dirci che è ora io mi auguro che tutti abbiano fatto l'abbonamento abbiano scelto lo dicevamo anche nella scorsa puntata io spingo sull'abbonamento come gesto di fiducia nei confronti della giuria selezionatrice perché chiaramente l'avete sentito l'elenco qualcosa vi sarà balzato subito nella fantasia da ovviamente così essere vi pare o la strada di Fellini con Flaiano tra gli auto cioè voglio dire qualcosa saltate sul divano qualcosa magari boh questo mi incuriosisce non mi incuriosisce ecco l'abbonamento o comunque l'impegno diciamo l'abbonamento è questa piccola trappola che ci facciamo noi stessi avendolo già comprato però sostanzialmente l'impegno a seguire tutto il lavoro fatto dalla giuria selezionatrice è sicuramente un impegno di fiducia e tra l'altro è una fiducia che va verso un arricchimento culturale perché non vado a vedere la versione di qualcosa che già so che potrebbe piacermi ma vado a vedere qualcosa di cui magari non so nulla e questo non può che arricchirmi sottoscrivo ogni parola di quello che dici quindi se verrà ogni persona che verrà a vedere uno spettacolo di cui non sa nulla ma che verrà perché dice se è stato scelto il GAD probabilmente è uno spettacolo che merita di essere visto sarà una grande vittoria per il festival Cristian siamo in chiusura io dovrò chiedere prima o poi alla direzione di Rossini TV di far diventare questo appuntamento non lo so perché non lo so per come periodico anche al di là del GAD perché sto talmente bene qui sto talmente bene con te mi piace talmente tanto quello che raccontiamo e che io imparo perché poi ne imparo a ogni puntata tantissime che mi piacerebbe non dover dire ci vediamo l'anno prossimo però insomma adesso troveremo troveremo qualcosa il messaggio è stato lanciato vediamo se viene raccolto nelle stanze di Rossini TV io però adesso a parte gli scherzi ringrazio Rossini TV sia per avermi ospitato sia soprattutto per sostenere il festival per esserne media partner quindi sono contentissimo di iniziare di proseguire perché poi già da qualche giorno è iniziato ma di proseguire questo viaggio assieme fino a domenica in cui sarà veramente una grande festa raccontata da Rossini TV non abbiamo fatto nomi ma se adesso ci mettiamo in mezzo ai nomi rischiamo di dimenticarci qualcuno cosa dici lasciamo stare ringraziamenti nomi qualcuno c'è quello da dire quell'altro da dire oppure rimaniamo così e diciamo che ringraziamo tutti allora visto che mi hai fatto l'invito qualche cosa devo dire allora innanzitutto ringrazio le istituzioni che rendono possibile il festival perché poi il festival è fatto dal lavoro di tante persone che non potremmo ricordare tutti ma è fatto anche dall'impegno delle istituzioni che lo sostengono quindi il comune di Pesaro in primis il ministero della cultura la regione Marche per restare nell'ambito istituzionale ma poi l'università dell'età libera Confesercenti la Fondazione Cassa di Risparmio insomma sono tanti soggetti che sostengono il festival che danno il loro contributo perché tutto questo possa avvenire poi se vogliamo dire dei nomi non posso che ricordarne uno per tutti quindi il presidente Maurizio Sebastiani che guida l'associazione Amici della Prosa e che appunto ringraziando lui per l'impegno ringraziamo un po' tutta la squadra che è veramente molto numerosa perfetto bene allora come ormai siete abituati a seguire in questo nostro piccolo ciclo di puntate dedicate verso il festival la trasmissione si conclude con una commedia che è stata scelta e selezionata sulla base della qualità video dei contenuti in un lavoro in collaborazione tra la redazione di Rossini TV e il consiglio direttivo dell'associazione Amici della Prosa per cui noi vi lasciamo con questa ultima commedia da vedere in televisione però invitandovi a fare quello che già qualcuno sta facendo perché sicuramente qualcuno è già andato alle varie anteprime ed è pronto già col piede sulla porta di casa per andare a vedere qualcos'altro insomma invitandovi comunque ad andare a teatro perché questo è il motivo per cui noi realizziamo questa trasmissione ed è il motivo naturalmente per cui l'associazione Amici della Prosa con il direttore artistico Cristian della Chiara mette in piedi non lui personalmente ma da 76 anni questa cosa così importante come il Festival dei GAD grazie Paolo grazie a tutti 76esimo Festival Nazionale di Arte Drammatica al Teatro Rossini dal 16 al 29 ottobre torna il Festival GAD la più antica e seguita rassegna di teatro non professionistico in Italia 8 spettacoli in concorso 2 spettacoli per ragazzi e 4 eventi speciali 2 settimane per ridere piangere ed emozionarsi vivi la magia del teatro assieme a noi grazie a tutti grazie a tutti Grazie.